Musica Curto nella notte all'interno del circolo tennis di Brindisi, nel mirino il deposito con attrezzi da lavoro situato di fronte alla palestra fra il parcheggio e l'ingresso dell'impianto sportivo di via Ciciriello a Rione Casale. L'intera scena è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza, le immagini mostrano tre persone che poco prima delle 4 di oggi, lunedì 26 settembre 2016, hanno mandato in frantumi una lastra di marmo forzato, un cancello e rotto il lucchetto, poi hanno portato via una saldatrice, una molettina, un compressore, un'ottosa siepi e alcuni attrezzi per giardinaggio caricati sicuramente su un mezzo parcheggiato all'esterno del circolo per poter essere poi agevolmente trasportati. I malviventi hanno anche aperto alcuni armadietti ad accorgersi di quanto accaduto questa mattina all'apertura del circolo uno dei dipendenti dell'impianto. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti delle volanti che stanno vagliando le immagini fornite dalle telecamere interne all'area, in via di quantificazione l'ammontale del furto che si aggirerebbe comunque intorno ad alcune migliaia di euro. Non è la prima volta che il circolo tennis subisce un furto. Un'azione simile avvenne anche la notte tra il 9 e il 10 aprile 2015, pochi giorni prima della sfida di Fed Cup tra Italia e Stati Uniti, quando i gnoti rubarono alcuni utensili dopo essersi infilati nel deposito attraverso una finestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.